... Primo passaggio con il numero 5 Paldacci in Porto Esco, 1 minuto 57 e 1. Paldacci in Porto Esco, con il numero 48, Baravelli Mizzudici, 1 minuto 58 e 6. Ho usato un attacchio che davanti si fa male liscia e di dietro si muove da terra. E' molto freddo, le ho tagliate, le ho aperte tutte. E' molto freddo, le ho tagliate, le ho aperte tutte. Questa è la strada del Paldacci in Porto Esco, il nostro corso è reale. Grazie. 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 Ma lì, a mea share ma qua. Grazie. Grazie. Grazie.